Sono 1.772 positivi ai test covid nelle ultime 24 ore su 124.077 tamponi effettuati con un tasso di positività all'1,4% secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 45 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nelle parti ordinarie sono 3.487. 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.